Allora, siccome ha dotato la proroga dei 6 mesi, qua il problema è l'avere una soluzione definitiva perché non possiamo andare avanti 6 mesi e in 6 mesi. La soluzione definitiva per i 6 mesi vale, ci vuole una legge, una norma dentro una legge. Ora, questa norma non si può mettere nel mille proroghe, non è una questione, non si può mettere nel mille proroghe. No, si può solo fare la proroga, il mille proroghe si chiama mille proroghe, però non è colpa di nessuno, è così, è fidato, per favore fidato, non si può mettere nel mille proroghe. Ora, se vogliamo risolvere, siccome io sono d'accordo di che si deve risolvere definitivamente questo problema, vi prego di credervi, non si può fare con il mille proroghe, perché il mille proroghe per legge può fare solo proroghe. Ma no, è vero, ma siamo letto che il mille proroghe, scusate però, il mille proroghe serve per dare un consentito al paziente, ma se avete seguito, se avete seguito, ma non ci sarà più, appunto ci vuole una nuova legge. Il Parlamento per leggerare non si riunisce più durante queste feste, si torna a riunire il Parlamento, non so, 10 di gennaio. Non so, 10 di gennaio. Non so, 13 di gennaio. Quindi non mi Rise, miowski non mi rommorgo History, per favore. Trans Kenneth кнопati